Musica Abbiamo parlato prima con Andrea Esposito che ha qualità di aiuto regista e quello che ha lavorato di più con voi attori alla definizione dei personaggi come avete lavorato per la costruzione dei vostri singoli personaggi? Come ho interpretato Marco? Come ho lavorato? Io sono nato in periferia sono cresciuto in periferia quindi diciamo che di materiale umano ne ho parecchio ne ho parecchio mi sono insomma ispirato a tante persone una in particolare un mio amico che ci sono cresciuto insieme da quando avevamo sei anni non ci conosciamo abbiamo fatto dalla prima elementare poi le strade si sono divise lui ha continuato un po' un certo tipo di strada io ne ho continuato un'altra e lui è stato la mia fonte proprio io lo vedo quando rivedo il film mi rendo conto che il personaggio c'è molto di questo mio amico proprio di periferia e anche i miei amici che l'hanno visto mi dicono caspita qui sembri proprio quindi diciamo che il lavoro è stato questo sinceramente non è che sia stato neanche troppo difficilissimo per quanto mi riguarda perché appunto avendo avuto tanto intorno e per tanti anni è stato un po' un processo naturale poi è chiaro lavorando con loro con i registi con Andrea mi rendo conto che è venuto fuori un po' meglio il personaggio di come l'avrei fatto da solo il mio personaggio è Mauro anche per me la stessa cosa è stato molto interessante perché venendo da Cinecittà è stato un po' come dire sono cresciuto in periferia anche io è stato un po' un ritorno dopo tanti anni di teatro dove comunque ti insegnano la dizione a parlare in un certo modo a pulire un po' quello che invece in un film si sente insomma che è appunto il nostro dialetto che ci appartiene a noi di Roma e quindi per me è stato molto interessante ritornare appunto alle origini e quindi per me è stata anche molto bella tutta la preparazione con Andrea Matteo e Daniele sono stati veramente molto professionali molto 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 in gamba nel saperci anche coordinare tutti insieme anche tra di noi abbiamo fatto molte prove quasi due o tre mesi di prove e si è creata proprio quella quell'alchimia quell'empatia tra tutti quanti noi per appunto raggiungere il risultato che che vedrete insomma e interpreto il personaggio di Faustino è un personaggio a cui sono legato perché anche a me comunque oltre ad essere il primo lungometraggio che che faccio è stato un personaggio che mi ha fatto ricordare il passato quindi ho cercato di attingere dai miei amici dai miei conoscenti e la cosa che ecco mi ha sconvolto di più non è stata tanto la psicologia del mio personaggio quanto esteriorizzare a livello a livello fisico la cosa quindi tagliarsi i capelli andare in giro veramente come un coatto vero quella è stata la cosa la cosa più forte per me a livello a livello emozionale però ho cercato comunque di attingere da da quello che avevo visto da quello che ho vissuto e spero ecco che il risultato sia sia positivo la costruzione del mio personaggio di per sé è stata è andata di pari passo con quelle che sono state le prove del nostro trio sia con Fabio sia con Michele seguendo le indicazioni sia di Daniele che di Matteo non è stato molto difficile anche perché io non sono di Roma sono di Rieti quindi insomma al di là del lavoro che ho fatto sul romano che benché il nostro dialetto sia molto simile insomma al romano non è così e questo si sente quindi al di là del lavoro che ho fatto sulle battute la creazione di questo personaggio mi ha portato a a pensare a qualcosa che è abbastanza diversa da che va in opposizione a quello che sono io poi realmente quindi ho pensato insomma a quale può essere il punto non dico più lontano ma abbastanza lontano da me e ho seguito insomma questa scia voi siete tutti attori professionisti comunque impegnati tra teatro cinema televisione com'è trovarsi su un set come quello di Et in Terra Pax dove il vostro apporto è fondamentale cosa che immagino non succeda né in televisione né tantomeno generalmente nel cinema insomma com'è stato poter disporre di una certa libertà nella costruzione e soprattutto il poter dialogare in maniera estensiva con i registi secondo me è quello che dovrebbe succedere sempre perché è quello che poi fa la differenza su un film noi adesso cioè siamo affiatati però è stato un affiatamento che è cresciuto che è nato e cresciuto e si è sviluppato sul set sostanzialmente e la libertà di costruire un personaggio sempre tra virgolette perché poi la magia qualcuno ha parlato d'alchimia mi sembra che è una parola che ci sta ci sta tutta perché la magia di questo set è proprio questa uno si è libero nel costruire il personaggio però questa libertà deriva per me più da una fiducia in chi ti sta intorno che è la fiducia nei registi la fiducia nell'aiuto del regista e di tutto lo staff perché tu sai io vado abbraccio quello che esce esce tanto sono sicuro che poi mi rimettono in riga o mi lasciano andare quindi se mi lasciano ci sono stati dei punti tra l'altro l'ultima scena del film è stata la mia prima scena che ho girato quindi sono arrivato sul set di notte presentavo c'ho la truppa vai fai la scena finale del film è simpatica come cosa nel senso e chiaramente essendo appena arrivato sul set e tutto il resto mi sentivo un po' ma l'ho fatta non l'ho fatta però sono sempre stato tranquillo da questo punto di vista ci sono loro ci sono loro che coordino ci sono loro che guardano ci sono loro che supervisionano ci sono loro che se faccio qualche cavolata me lo dicono se non mi dicono nulla continuo quindi la magia è proprio questa ripeto quello che fa la differenza secondo me tra un film di un certo tipo è è questo la libertà la tranquillità di lasciare lavorare gli attori la libertà di lasciare lavorare gli attori la libertà di portare poi in scena qualcosa con un peso qualcosa che abbia insomma fondamento quello che c'è dietro noi abbiamo portato in sostanza la verità di quello che c'è dietro recitando che questa è una cosa particolare perché non è un documentario su una periferia comunque noi abbiamo recitato e quello che esce da questo film paradossalmente magicamente è comunque una verità fatta cinema dovrebbe succedere sempre questa cosa si è parlato prima del fatto che avete avuto diverse settimane di tempo in cui avete praticamente discusso dei personaggi senza fare prove particolari che sono poi state fatte in seguito quanto avete potuto portare di vostro nei personaggi nei vostri rispettivi personaggi tu nel tuo in particolar modo per quanto mi riguarda tutto nel senso che veramente per me è stata proprio una grande gioia parte proprio perché appunto Matteo e Daniele sono stati molto bravi nel creare questa armonia questa armonia e ci siamo sentiti tutti molto protetti io ho avuto proprio questa sensazione di protezione quindi si è creata appunto quell'atmosfera che ci ha permesso anche di lasciarci andare quindi io mi sono proprio lasciato andare al mio personaggio come anche tutti quanti i miei colleghi per cui devo dire che alla fine appunto il risultato c'è e quindi è questo poi la magia loro sono molto bravi Matteo e Daniele hanno talento io vengo dal teatro come loro e a loro hanno la caratteristica dei grandi maestri i grandi maestri riescono a a mettere a proprio agio gli attori che sia teatro che sia cinema per veramente dare il massimo e loro ci hanno messo proprio nelle condizioni di dare il massimo tutti quanti e questa è una grande qualità e per essere un primo film per loro veramente grande stima grande sono sicuro che sentiremo parlare molto di Daniele e Matteo perché veramente sono molto bravi molto di talento e per me e per noi è stato un grande piacere veramente credo che la cosa fondamentale sia stato provare durante prima delle riprese sia stato provare 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 e trovare una sintonia una sintonia vera però perché la cosa che contraddistingue appunto come diceva prima Maurizio la cosa che contraddistingue questo film magari da un documentario sulle periferie il documentario tende a far vedere i personaggi veri noi siamo quasi una sorta in quel momento di non attori però recitiamo quindi abbiamo questa telecamera questa macchina da presa non dico telecamera altrimenti gli esperti si arrivano siamo a Venezia siamo non possiamo la macchina da presa la macchina da presa sta lì è come se ci controllasse è come se venisse a spiare la nostra noia la nostra solitudine noi ad esempio con Germano e Fabio l'altro attore che che sta nel nostro trio abbiamo abbiamo cercato una fusione una fusione però sono personaggi essenzialmente soli sono soli anche se stanno sempre insieme sono soli ognuno pensa per sé e questa cosa non è stata facile perché oltre diciamo al rapporto professionale c'è anche un'amicizia quindi è stato difficile capire questi rapporti cioè siamo amici o non siamo amici e credo poi con le prove con le prove continuare a fare prove tutti i giorni per uno due mesi insomma e anche vedendoci tra di noi e provare abbiamo cercato di capire quali sono stati i rapporti è un po' strano da spiegare però lo definirei come una telecamera una macchina da presa che ci sorveglia che ci sorveglia costantemente nei momenti di silenzio e la magia è proprio quello cioè non recitare ma recitare per me è un esperimento riuscitissimo immagino anche che il fatto che la lavorazione si sia svolta nell'arco di pochissimi giorni si parla di tre settimane vi abbia anche aiutati nel rimanere ancorati al personaggio che vi siete anche costruiti da soli giusto? provando facendo molte prove quindi avendo una confidenza giornaliera con il testo e con il gruppo una volta che siamo andati a girare in qualche modo la macchina da presa che ad un primo acchitto rappresenta sempre un elemento esterno con la quale rapportarsi è diventata quasi un elemento invece complementare alla scena e quindi non un occhio esterno che guarda quindi in qualche modo questa macchina da presa questo oggetto che generalmente nei film è un oggetto esterno è un oggetto che invece è entrato nella nostra quotidianità perché poi provando tutti i giorni e quindi non c'è stata neanche molta difficoltà poi nell'andare a girare una scena che si era provata tutti i giorni per tre mesi e poi un'altra cosa che ha detto Michele noi abbiamo trovato una sintonia la famosa alchimia che io credo sia proprio una chimica che in questo film viene fuori molto bene che è il rapporto fra intanto noi come attori che poi viene riflessa in noi come personaggi perché si capisce molto bene il rapporto che c'è tra tutti i personaggi del film i vari rapporti e poi c'è una sorta di sincerità è quello che crea il misunderstanding fra recitano non recitano c'è questa naturalezza perché c'è questa naturalezza perché comunque secondo me siamo tutti attori che in qualche modo ognuno di noi ha vissuto ha vissuto ha vissuto intensamente la propria vita e questo non capita sempre e questa sincerità viene fuori e traspare c'è stato un rapporto onesto tra di noi durante le prove se io avevo qualcosa da dire a lui o a Fabio perché comunque molte scene tutte le scene stiamo insieme quindi lo dicevamo non avevamo problemi a dire guarda Germano la battuta dammela così oppure Fabio la battuta dammela così oppure loro che avevano qualcosa da dire a me non caricare troppo quindi c'è stato un rapporto proprio sincero tra di noi non abbiamo mai avuto il problema non so se dirglielo perché quella battuta data così non è è stata la sincerità l'onestà e la bravura perché avendo comunque tutti quanti una formazione teatrale che ci ha formato che ci ha fatto fare la famosa gavetta abbiamo abbiamo poi fatto anche altre cose sul set non eravamo gli attori che arrivavano sul set abbiamo fatto tutto alcuni vestiti ad esempio sono nostri e quindi abbiamo avuto modo di confrontarci con le costumiste e capire com'era il nostro personaggio abbiamo avuto modo comunque di rapportarci con tutta la truppa con tutto il cast tecnico perché comunque siamo tutti ragazzi quindi è stato un bel gioco è stato un bel gioco sia all'esterno che all'interno del film e quindi è una grande famiglia la definirei così è stato soprattutto un grande lavoro d'equip perché se il film è riuscito bene significa che il rapporto tra gli attori e i registi è stato ottimo e anche con la troupe perché è stata una troupe veramente favolosa che ha montato e smontato il set veramente in pochissimo tempo le costumiste le costumiste le costumiste le costumiste e scenografe scusi le scenografe e anche la produzione comunque abbiamo sempre trovato sempre sempre da tutto pronto arrivate sul set e insomma questo secondo me è stata la vera forza di questo film è la chimica che si accade tra le varie parti tecnico e artistico perché molte volte poi si pensa che film girati in così poco tempo siano film approssimativi fatti con fretta fatti con con così in realtà non è così cioè è stato un film che in 17 giorni ha avuto tutto pronto sapevamo come comportarci ma non solo noi tutti quanti noi arrivavamo là e avevamo le luci montate avevamo un'organizzazione una squadra che che picchiava quando stava lì e questa è una cosa una cosa bellissima peraltro scusami rimanendo in tema tre settimane di lavorazione delle quali la settimana centrale che erano quasi tutti esterni ha piovuto quindi un grande eloggio a Davide Manca perché uno non se ne rende conto adesso una domanda particolare dopo aver potuto godere di una di una certa libertà nella definizione dei personaggi nella recitazione nel confronto con attori registi e sceneggiatori adesso come si sentite all'idea di tornare magari a lavori dove questa libertà non sarà altrettanto ampia la libertà così probabilmente è rara forse impossibile non lo so però la mia libertà me la trovo riesco sempre a trovarmela sono arrivato anche su set televisivi dove magari nessuno ti conosce nessuno ti sta dietro e ho trovato anche lì magari registi persone in cui si poteva discutere della sceneggiatura perché magari è scritte in un certo modo quindi diciamo che poi anche un po' adesso non vorrei sembrare un po' però la propria libertà va sempre ricercata in questo campo io sono dell'opinione che che sicuramente riaccadrà in futuro di trovare persone libere poi come noi siamo stati in questa situazione perché poi ho notato che soprattutto tra le nuove generazioni c'è una grande voglia di fare una grande voglia di libertà e quindi e forse anche questo un po' il valore aggiunto la forza di chi di chi fa anche appunto il nostro lavoro nel senso che una persona molto giovane ha voglia di di crescere di maturare di migliorarsi e di essere libero nella propria creatività e quindi sicuramente si presenteranno altre occasioni con loro sicuramente sono sicuro io sono un po' più pessimista però però cercherò spero arriverà arriverà il momento in cui in cui lavorerò con registi magari che mi consentano di confrontarmi con loro perché entro in polemica perché molti registi sono abituati soprattutto nelle fiction sono abituati a fare le cose in maniera un po' approssimativa quindi io credo sia necessario per un attore capire e comprendere che cosa stai dicendo perché il nostro lavoro è comunicare e se tu non capisci quello che dici questo lavoro non lo puoi fare quindi credo per me sarà molto difficile trovare questa libertà però so già che stare qui a Venezia è stato il dono più grande e la libertà poi speriamo venga perché stare qua significa anche vogliamo dire investire su un proprio futuro professionale solo questo cosa dire ma io non vorrei essere troppo pessimista però io sono fiducioso che ci siano perché ce ne sono di registi che comunque lavorano bene lavorano con gli attori io per esempio per dirne uno Daniele Lucchetti con il quale il centro sperimentale ho lavorato ultimamente lui per esempio è uno che lavora molto con gli attori e quindi non è che non c'è speranza la speranza c'è che comunque le nuove generazioni cambino la metodologia di lavoro però certo oggi non ce ne sono molti quindi insomma Daniele e Matteo sono delle mosche bianche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti